Questo è un nuovo video, sono arrivato in version 7, c'ho qua un nuovo video di Call of Duty Eccolo che è arrivato Adventure Warfare! Con... Bomber, Marco Vecchio l'account Con... TheWaterMagnetic, il cosiddetto Marco War Allora, io vado... Senti, io ho l'automax Senti, bella Eccola Ti può usare ovviamente solo... La... Biggol! Ma no, io non mi guardo Eccolo Ora è una pietra Marco, guarda la pietra, ovviamente non puoi guardare sopra, io non posso guardare sotto Eh, non mi ricordo anche come spara Ma io non la trovo la pietra Eccolo Eccolo Ma no, come stai? Bella, bello ragazzi, io ho dovuto sapere che io da vicino ho questo Eccolo 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 Il coltallino che Marco odia alla grande Io canto Potrei avere un paio di disperti che stoando No, no! No, no! No, no! no volevo fare il castellino non ti sento che non vengono ne potremmo pure evitare la è però devi togliere ecco no volevo fare prima di prenderti queste qua perchè devi togliere la attenzione per prendere il mio cellulare che va oh bella oh bella oh bella tu stai con me quando hai spaccato il R1 tu stai forti con me quando hai spaccato il R1 si tu stai forti con me quando hai spaccato il R1 ma fiasse dove sono servito vero un guardare su bravo che cosa vuole questo è incredibile che cosa vuole questo è incredibile che cosa vuole ma come stai ma come stai ma come stai ma che è sempre vinto io sarà la prima volta che perdo ma no no ma no io vengo a dire ma non ci sentiamo perchè ma dove stai nella pietra allora ok 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 no 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 ho fatto balla attualmente un po' di storia il commento che non è che storia marco che c'è C'è un po' C'è un po' niente che non c'è C'è un po' che c'è un po' niente C'è un po' che c'è C'è un po' che c'è un po' 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 No! Capo! Oh! Come l'ho già preso! No! Colta di noi! Nooooo! Io devo avvicerni sempre più a te che sei più piano con la lontano! Cosa stai? Sei più bravo pure da lontano! Non c'è via la porta! Non c'è via la porta! Non c'è via la porta! Oh! Non c'è via la porta! Io ho la mia! E' un po' di più! Non c'è via la porta! Cosa stai? ... ... ... ... cazzo la mia flessere mi sono dove stai? come è fatto? aspetta non lo so 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 e si tu guardi che hai bravo la mia volta che vinci è veramente vinto ma ecco ma dove cazzo voglio bello non lo so non lo so che cosa? come fai? no no grazie se lo metto no 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 dove stai vanturando? cosa? che l'ho fatto? che l'ho fatto? no no guarda 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 Non, 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 non.. Cosa?! T'operto! Non!! Cosa è mi lavoro? Bella! Che vede né? Che è il primo? Oh! Mi sono iniziato! Oh manco, come in! E' ora proprio il quadro! Ma come un po' di troppo! è la 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 la